Macchitella che ha provato a fare lo sgambetto al Canicattì, non ci è riuscita, nonostante una bella gara. Sì, abbiamo giocato molto bene sulla prima frazione, alcuni errori difensivi comunque ci hanno un po' penalizzati. Lascia la mare in bocca perché comunque oggi, dopo aver passato in vantaggio per il 2-1, pensavamo di fare la nostra partita e invece il Canicattì si è rilevata proprio la squadra che noi pensavamo, una squadra cinica che non ti permette il minimo errore e ti castiga. Abbiamo avuto un campionato altalenante nel senso che abbiamo fatto tre vittorie, tre sconvitte, tre vittorie, tre sconvitte. Viaggiamo con questo ruolino di marcia e speriamo di non perdere più punte anche se comunque sapevamo che avevamo un tour de force con Nissa, Alicata, Canicattì, Ragusa, Atletico Gela e diciamo che sono i primi della classe, lo si vede e comunque si deve dare merito ai miei ragazzi che oggi hanno giocato alla grande contro il Canicattì mettendoli sotto per parecchi minuti, però alla fine vediamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. La prestazione mi rende ottimista e quindi sono orgoglioso di loro per tutto quello che stanno facendo.